E c'è questo attestato che naturalmente ti facciamo consegnare questa sera dal governatore perché ci tenevamo che un attestato così importante della Rotary Foundation ti fosse dato dalla persona in più alta carica del nostro distretto, quindi dal governatore, che ti spillerà adesso e poi spiegheremo perché hai ricevuto questa spilla. La spilla di benefattore della Rotary Foundation. La spilla di benefattore viene data a Riccardo Angelini perché come sapete per tutta l'attività che ha fatto negli anni per il nostro Rotary ha terminato i Polaris, quindi non c'era più possibilità di Polaris perché è arrivato ad otto e quindi è un po' di anni che anche con Giuliano Piccioni volevamo dare questo attestato di benefattore ma in realtà l'attestato di benefattore ci richiede uno sforzo economico come club che va sempre alla Rotary Foundation e non eravamo mai riusciti a realizzarlo. Quest'anno, appunto, siamo arrivati a darti questa spilletta ma con tanto orgoglio perché sei una persona che ha fatto tanto per il nostro club, che è presente da qualcosa come 31 anni di freddo, al 100% da 31 anni, quindi stima e un ringraziamento immenso per tutto quello che hai fatto anche nel mio anno, io naturalmente devo parlare per il mio anno ma anche per tutto quello che hai fatto negli anni per tutti i presidenti. Ancora e tanti complimenti. Sono orgoglioso di essere rotariano e ringrazio gli amici per questo riconoscimento, ringrazio un cuore. Grazie. Grazie.